radio luna e la seconda parte dell'appuntamento odierno su radio luna io sono già spava di là c'è marco pece con noi gli amici della eddy lang music un'associazione di promozione sociale di monte roduni tra le cose che combina a fin di bene e per questo c'è un grande incombito a parte nostra e c'è l'organizzazione delle di lang nonostante la loro giovane età le di lang è giunto la 32esima edizione cominciamo con il 27 con la prima data di questa edizione il 27 si inizia alle ore 21 e 30 ci sarà mike stern con la sua band tra l'altro una band favolosa dove ci sarà anche denis chambers jimmy eslip lennie stern parente sarebbe la moglie di mike la moglie anche lei anche lei chitarrista e cantante bellissimo e al sax il grandissimo bob franceschini in apertura del concerto ci sarà una band locale amici di venafro e e questo vi aspetto il 27 allora il castello è molto bello e il concerto è seduti o in piedi seduti al concerto si può accedere sia in piedi abbiamo due tipologie di biglietti in piedi che seduti quanti posti a sedere abbiamo 200 posti a sedere in piedi altrettanto e si riempie tu sempre siete contenti di questa cosa assolutamente guarda l'elaborazione di un cartellone del genere ma anche anche minore diciamo di ogni manifestazione richiede tanto sacrificio e tanto impegno che poi magari quelle sere durante il festival uno si rilassa si rilassa veramente provo tanta soddisfazione veramente perché a me quello che è fatto è fatto sì l'anno scorso per esempio ad un concerto di richard bona verso le otto prima del concerto è venuto a piovere quindi eravamo un po in crisi poi mezz'oretta smesso abbiamo asciugato le sedi è entrata tanta gente veramente tanta gente alla fine del concerto tutti ballavano sotto il palco io da dietro mi stavo quasi mettendo a piangere allora ragazzi avete piano b se dovesse appunto le condizioni meteo si 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 il comune di isernia ci ha dato il patrocinio ci ha concesso in caso di maltempo ovviamente l'auditorium unità aspetta questo se viene a piovere 50 anni prima vabbè questo piove mezz'ora prima che fai se piove mezz'ora prima il concerto sia nulla è chiaro si annulla si si rimanda sia nulla dipende dagli artisti che lo sto è un po improvvisato però se però da per domani si vede insomma il maltempo che è sicuro al cento per cento lo rimandiamo ok perfetto basil da quanti anni vi occupate delle di lang allora io personalmente nell'associazione sono da tre anni troppo poco va beh marco tu da quanti anni io anche da tre anni diciamo però sempre collaborato di tre anni fa mi sono preso la responsabilità di presidente dell'associazione e quindi di formare un gruppo attivo a svolgere questa attività bene basilio parliamo dell'appuntamento del 28 luglio ok sempre il 28 luglio al castello alle 21 avremo in apertura al concerto di st le clark ladyland legacy in gruppo con avremo la chitarra un grandissimo chitarrista di napoli che pietro condorelli e poi avremo il concerto di st le clark in un tributo a cicoria che purtroppo è scomparso poco tempo fa con lui avremo anche artisti tutti i nomi grossi no va bene va bene se parliamo dell'appuntamento del 29 luglio arriverà ray gelato e the giants ma ray gelato diciamo a differenza di degli altri è anche conosciuto in parte dal popolo radiofonico perché insomma ha avuto dei successi che sono passati anche in radio con una certa frequenza ci spieghi questo concerto si ray gelato e the giants diciamo che la serata un po più commerciale tra le quattro infatti la la faremo di sabato sera noi cerchiamo sempre di seguire questo standard tutti gli anni e si ci sarà reggelato in apertura la p funky band che dalle 18 e 30 farà una parata per per le vie del paese per il borgo di monteroduni per poi aprire il concerto di reggelato altro appuntamento del 29 dove l'ingresso è gratuito è la finale la finale del concorso il genio di eddie lang per giovani chitarristi infatti perché voi avete organizzato anche un concorso per jazz band per chitarristi sì quest'anno riprendiamo questa tradizione che è stata diciamo la prima idea del primo festival nel 91 è stata una cosa che andò in diretta anche su radio rai quindi una cosa molto seguita che ha che ha sfornato tantissimi talenti bene insomma monteroduni come dire produce cultura di un certo livello e il bello è che lo fa durante anche durante l'anno quindi insomma non mi fermate alla lady lang jazz festival allora lady lang comincia il 27 luglio abbiamo spiegato e vi abbiamo resi e dotte dei primi tre si chiude il 30 luglio chi lo dice di voi due con cosa si chiude allora il 30 ci sarà frank gambale con il suo progetto all star band in apertura alcuni dei maestri delle nostre zone insomma della zona del napoletano diciamo che sarà una serata fusion quindi anche chi amante del rock sicuramente verrà a sentire questa serata il 30 stesso come il 29 alle 16 ci sarà un'altra finale perché il nostro concorso prevede due categorie una giovani chitarristi e una jazz band alle 16 del 30 ci sarà la finale delle jazz band è un appuntamento corposo direi che ci sta gran movimento di musica è uno degli appuntamenti da non perdere lady lang nell'ambito della dell'estate molisana e quanto tempo avete impiegato a mettere su allestire questo cartellone siamo partiti a novembre beh insomma relativamente molto prima degli altri anni a e quindi siamo più preparati presidente nuovo capito un nuovo metodo allora marco io so che insomma il concorso ha avuto uno successo diciamo oltre ogni vostra previsione sì sì siamo molto orgogliosi di questo perché l'abbiamo ripreso dopo qualche anno e abbiamo avuto un riscontro veramente da tutta italia abbiamo avuto iscritti dalla sicilia dalla sardegna dalla liguria quindi veramente tutta la penisola e ringraziamo i giovani che sempre si mettono in mostra e vi aspettiamo per le loro finali basilio per seguirvi per acquistare i biglietti allora i biglietti si trovano in prevendita su viva ticket poi è anche possibile acquistarli al botteghino vabbè se non sono finiti sì io vi ringrazio davvero spero di avervi ospiti non una volta l'anno ma più volte l'anno perché viene qui a raccontare anche d'inverno magari tu va bene la chitarra ma tu vieni con lo strumento e facciamo una cosa live parliamo del che perché parlare di quello che fai con le orchestre e dei concerti che tieni a differenza di organizzare eventi a un'altra un'altra vita artistica è bello insomma condividerlo con chi ascolta quindi torna magari dopo Lady Lang Lang con lo strumento tornate un'altra volta e vediamo un po' che succede ragazzi davvero grazie davvero di tutto l'appuntamento con Lady Lang il 27 luglio fino al 30 grazie a voi alla prossima ciao ragazzi grazie ciao